Gossip, Anna e Giorgio hanno mentito? La dama confessa. Gossip, Anna e Giorgio. Valentino, che reputava un amico sincero, non l'ha difesa in studio confermando che tra loro c'è sempre stata solo amicizia e che lei non è mai stata attratta o innamorata di lui. E dopo quando successo, l'amicizia dei due è finita ma la dama è ritornata a parlare della vicenda svelando tutta la verità su Giorgio tramite Facebook, ecco le sue parole. Anna Tedesco accusa Giorgio Manetti. Se infatti Giorgio Manetti ha cercato di scaricare tutte le colpe su Anna, accusandola di non essere una vera amica, la dama di Gubbio ha respinto le accuse al mittente, dichiarandosi schifata e delusa dal comportamento definito indegno del cavaliere. E dopo aver detto queste cose in studio, le ha anche ribadite su social, confortata dall'approvazione di migliaia di fan. Io ho sempre dato una considerazione troppo elevata all'amicizia e ha esordito sulla sua pagina Facebook la biondissima dama di Gubbio che è in trasmissione da qualche anno. Ho sempre pensato che abita nel cuore e si nutre di sincerità, comprensione e perdono. Ho sempre creduto che alcune parole non dovrebbero mai uscire di bocca nemmeno nel momento più rabbioso della nostra anima. Le parole al vetriolo della bionda dama. Buon oggi amici veri e sinceri. Insomma, un post che contiene una serie di frecciatine niente male all'indirizzo del cavaliere Giorgio Manetti, ormai suo ex amico. Come si tratta? E chissà come avrà preso Giorgio questa parole.